Ecco qui i tuoi fiori, belli e misteriosi, con un nonso occhie di strano. E per questo io le ho messi in un vasso, a forma di corpo umano. Sono, sono i tuoi fiori, i tuoi fiori, fiori per me. E i tuoi fiori, i tuoi fiori, fiori per me.